Un caro saluto da Vincent Lyonhaft o se preferite da Lyonft con la seconda puntata su Tony Super Va bene, si? Va bene con la seconda puntata di Tony Super Il cugino di, 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 come si chiama, di, 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 Tonino Motorshow Anche se noi abbiamo gusti differenti, gusti diversi e ognuno, vabbè, ognuno i propri gusti, ognuno le proprie cose Va bene, ieri sera, stanotte ho passato una bellissima serata, una bellissima notte con Peppino, no, quello è Rocchino Catalino Scusate, abbiamo bevuto un po' e quindi non mi ricordo tanto bene, però sia con Rocchino Catalino che anche con Peppino Peppino Scusate, sì, tutte e due c'erano, adesso sono un po' spasato perché non mi ricordo Avevano fiume di alcol lì, trascorrevano e non ricordo bene, sono un po' abbioccato, un po' annebbiato Però sia con Rocchino Catalino che con Peppino Peppins siamo divertiti La bella festicciona in casa nostra perché noi a casa le facciamo sempre le feste Va bene, va bene, è vero Rocchino? Dopo vieni a dire anche tu come è stato Catalino e anche tu Peppino Peppins Fra poco fatti riprendere anche tu, digli un po' a tutti questi gentili spettatori e questi gentili spettatrici come è stata questa nottata Con piena diserenata, eh? Romantica e sfrenata al contempo Quindi mi raccomando dopo dovete essere anche voi qui ripresi Va bene, eh? Quindi io sono sempre, sempre sulla cresta dell'onda Sono sempre, comunque ho sempre il mio sex appeal La mia verb e tutte queste cose qua che ho alla fine, non so manco che significa Però va bene lo stesso, va bene lo stesso, ok? Allora ci vediamo molto presto e farò intervenire Occhino Catalino, Catalino il mio bel bambino, bambinone Così come pure Peppino Peppins, interoperanno anche loro I miei cari amichetti amicissimi Dolcissimi, sfrenatissimi Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao, ciao, ciao